Si indubbiamente i disagi hanno valso la pena e la popolazione l'ha capito, era un'opera attesa da tanto che abbiamo accolto con estrema attenzione come amministrazione e di questo ringrazio la volontà politica della provincia e particolarmente anche le maestranze con il settore infrastrutture della provincia per un intervento che è stato condotto con estrema precisione, con continuità nel tempo e con veramente capacità da parte anche dei progettisti di risolvere un problema strutturale estremamente importante. Quindi oggi la provincia consegna la nuova galleria dei poggi e questo per noi è un intervento caratteristico e ci fa piacere, sia capitato proprio in questi momenti, di un comune unico che cura i collegamenti, cura le reti di comunicazione e cura chiaramente l'unità del territorio. Quindi il territorio riassume la sua pisionomia dopo questo breve periodo di interruzione e ne siamo veramente felici.